Eccoci giunti, incredibile ma vero, al decimo canto del secondo libro. Allora, Ranaldo, questo canto inizia parlando di Ranaldo, coi suoi tre compagni si accinge all'ennesima impresa, come abbiamo letto alla fine del canto nono. Ma dapprima Iroldo, poi Eprasildo, infine Dudone, quest'ultimo dopo aver veramente venduto cara la pelle, vengono imprigionati e nascosti su una nave ancorata nel mare delle isole lontane. Naturalmente vengono fatti prigionieri dal negromante Balisardo, il quale Balisardo è un mutaforma, nel senso che ha nel corso dello scontro con i paladini assunto l'aspetto di diversi animali. Drago, poi cinghiale dal corpo mostruoso e leale la coda di serpente, insomma si è tramutato in orride bestie. A un certo punto assume addirittura l'aspetto del giovane Dudone, e qua si ha quasi il tema del doppio, si è trattato il tema del doppio, si ha un doppio Dudone, e traendo in tal modo facilmente l'inganno a Ranaldo, che pure alla fine viene catturato e rinchiuso assieme agli altri sfortunati e compagni. Come Pinocchio nello stomaco della balena incontra Geppetto, qui invece Ranaldo incontra Astolfo, il conte inglese, che era stato precedentemente preso da Balisardo, quando Adriano cadde con Ranaldo, in quel profondo invece Astolfo era stato preso contemporaneamente da Balisardo. Stacco si passa a Orlando e Brandimarte, che sulla strada per Albracà si imbattono in Marfisa, che insegue ancora Brunello, li avevamo lasciati che si inseguivano, al quale vuole riprendere la spada, e teste furtivamente sottrattale. Ancora una volta Brunello adegua la sua velocissima corsa a quella della furente Marfisa e in tal modo la burla e la schernisce. Questo è grossomodo il riassunto di quello che accade appunto nel decimo canto del secondo libro. Ma andiamo a cominciare.